Ti sei mai chiesto se Donald Trump sta per entrare nel mondo delle criptovalute? Ebbene, potrebbe essere vero. Secondo le ultime notizie, l'ex presidente degli Stati Uniti sta per lanciare la sua criptovaluta, e le implicazioni potrebbero essere enormi. Ma cosa c'è veramente dietro questo progetto? Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale dedicato al mondo delle criptovalute. Qui troverete aggiornamenti di mercato, recensioni di progetti e consigli per aiutarvi a prendere decisioni informate nel mondo delle criptovalute. Vi invito a seguirmi al canale per essere sempre aggiornati. A soli 22 giorni dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, Trump e la sua squadra stanno promuovendo World Liberty Financial, una piattaforma criptografica che, a prima vista, promette di rivoluzionare il mondo delle criptovalute con prestiti, investimenti e un token di governance. Questa iniziativa, guidata dai suoi figli Don G.R. ed Eric Trump, ha già attirato l'attenzione del mondo finanziario e tecnologico. Ma attenzione! Mentre sembra una mossa audace, ci sono anche parecchi dubbi sollevati dai principali esperti di criptovalute. Ad esempio, Billy Marcus, uno dei fondatori di Dogecoin, ha apertamente criticato il progetto, affermando che potrebbe non essere la scelta più saggia per Trump, soprattutto in un periodo così critico. In effetti, quando si guardano i dettagli di World Liberty Financial, emergono delle preoccupazioni. Nonostante la promessa di decentralizzazione, sembra che il 70% dei token sia riservato a fondatori e fornitori di servizi, lasciando solo il 30% al pubblico. Questo solleva dubbi sulla vera natura decentralizzata del progetto. Inoltre, alcune figure chiave coinvolte nel progetto hanno legami con un recente hack che ha causato la perdita di 2 milioni di dollari in criptovalute. Questo passato solleva non poche perplessità sulla sicurezza e affidabilità del nuovo progetto. Ma qual è il vero obiettivo di Trump con questa mossa? Da un lato, il suo team promuove la piattaforma come una soluzione per decentralizzare il sistema finanziario e creare una maggiore indipendenza dagli intermediari bancari. Dall'altro, c'è la preoccupazione che questo progetto sia guidato più dall'interesse politico che da una reale volontà di innovare il settore delle criptovalute. È interessante notare che Trump ha promesso in passato di sostenere bitcoin e di difendere il diritto alla custodia privata delle criptovalute. Ha anche affermato che, se eletto, licenzierà il presidente della SEC, Gary Gensler, e nominerà un nuovo team per regolamentare le criptovalute. Tuttavia, queste promesse sono sufficienti per placare le preoccupazioni della comunità cripto? Detto questo, grazie per averci seguito fino a questo punto. Non sprecare il prossimo volo cripto. Grazie per essere stati con noi. Se volete rimanere aggiornati sulle ultime novità del mondo cripto e non sprecarvi una criptoavventura, schiacciate quel pulsante seguimi e attivate la campanella. Pronti a partire? Allora ci vediamo nel prossimo video.